Proseguiamo con la cronaca. Sei giovani sono stati arrestati dagli agenti della squadra volante dell'Aquila per una rissa scoppiata questa mattina nella zona della villa comunale. Si tratta di tre tunisini e tre egiziani. La polizia intervenuta sul posto su segnalazione di alcuni passanti ha sequestrato due coltelli usati nel corso della colluttazione di una grossa pietra. Nella rissa erano coinvolte una decina di persone ed alcuni giovani sono rimasti feriti, quindi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per accertamenti. Al momento non si conoscono le loro condizioni e soddisfazione è stata espressa dal prefetto dell'Aquila Giancarlo Di Vincenzo in seguito all'intervento condotto dagli agenti di polizia. Grazie al questore dell'Aquila Enrico De Simone e alla Polizia di Stato spiega Di Vincenzo per la tempestività e la professionalità con le quali sono stati tratti in arresto i sei presunti responsabili dei fatti di rissa odierni. Ciò conferma di una presenza capillare sul territorio delle forze di polizia ed ultimale collaborazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza di questo territorio.